Sono una delle quattro sorelle che gestisce appunto il panificio. È da diversi anni che siamo appoggiate all'associazione Cofartigianato per qualsiasi problemi che abbiamo. Abbiamo fatto diversi corsi, diverse fiere insieme con la Cofartigianato e ogni volta che abbiamo fatto qualsiasi cosa ci siamo trovate bene. Non si è messa da parte, anzi, ci ha sostenute con delle iniziative come questa settimana ci ha aiutato con la settimana del pane integrale. Noi siamo una ditta che fa arredamento su misura. Siamo soci di Cofartigianato da oltre 40 anni e stiamo percorrendo dei corsi sia a livello personale che per la ditta, corsi di strategie aziendali principalmente, di leadership per gestione delle risorse umane interne che è una cosa molto importante. Artigiani sempre sul pezzo. Artigiani sempre sul pezzo.